la nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide occidentali che determinano occasionali piovaschi in un contesto termico non freddo osservando la cartina delle isobere fronti prevista per le ore centrali di sabato 30 gennaio notiamo una nuova ed intensa perturbazione in arrivo dalla francia la quale interesserà la nostra regione a partire dalla serata di sabato la formazione di un minimo depressionario sul golfo ligure rallenterà il suo movimento verso sud est per cui insisterà sulla nostra regione per tutta la giornata di domenica sarà preceduta da intense correnti meridionali che manterranno le temperature su valore al di sopra della media del periodo ci attende dunque una domenica caratterizzata ancora una volta dal maltempo con altre abbondanti precipitazioni in arrivo diminuiranno lievemente anche le temperature nella giornata festiva ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana domani sabato 30 gennaio cielo inizialmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con associate precipitazioni in intensificazione dalla serata i fenomeni inizialmente interesseranno le aree costiere ma tenderanno ad estendersi rapidamente a tutto il territorio regionale nel corso della notte temperature senza particolari variazioni con valori di poco superiori alla media del periodo venti da deboli a moderati da sud tendenti a disporsi da libeccio dalla serata e rinforzando ulteriormente mare mosso con modo ondoso indeciso aumento dalla serata domenica 31 cielo molto nuvoloso ovunque con precipitazioni diffuse e localmente intense i fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio temporalesco specie in prossimità dei rilievi montuosi temperature lieve diminuzione venti tra moderati e forti da ovest sud ovest tendenti a diminuire di intensità dalla serata mare molto mosso agitato con modo ondoso in diminuzione dal pomeriggio sera il nuovo mese inizierà ancora con condizioni di tempo instabile a causa del passaggio di nuovo fronte perturbato altre precipitazioni sono attese dunque su gran parte della nostra regione nella giornata di lunedì primo febbraio ma non farà freddo e non ci saranno nevicate in montagna se non sulle cime dell'appennino instabilità che proseguirà in parte anche nella giornata di martedì 2 febbraio con sporadiche precipitazioni soprattutto in mattinata da mercoledì 3 invece le indicazioni che giungono dai più autorevoli centri di calcolo mostrano un temporaneo cambio di circolazione con l'affondo ad ovest della penisola iberica di una circolazione depressionaria originatasi sul nord atlantico questo comporterà l'espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che ingloberà la nostra regione almeno per un paio di giorni determinando un sensibile aumento delle temperature con condizioni di tempo discreto volendo fornire qualche dettaglio al momento possiamo dire che tra giovedì 4 e venerdì 5 febbraio le temperature massime su molte località della nostra regione potrebbero sfiorare i 20 gradi centigradi si tratterebbe di una breve parentesi dal sapore quasi primaverile poiché già a partire dal prossimo weekend e mi riferisco a sabato 6 e domenica 7 potremmo assistere ad un nuovo cambio di circolazione con il ritorno delle precipitazioni ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e per seguire più da vicino l'evoluzione meteo invito ad iscriversi al gruppo su facebook meteo cilento bene termino qui a presto da giuseppe stabile